Non si placa la polemica legata agli appalti pubblici indetti dal comune di Bolzano e dalla stessa provincia. Ad alzare i toni questa volta il presidente della CNA Claudio Corrarati, indignato per come l'amministrazione comunale del capoluogo abbia gestito l'appalto unico di pulizie con un importo complessivo di un milione e mezzo di euro. Una situazione che avvantaggia, dice CNA, le grandi aziende che lavorano fuori regione e penalizzano le piccole realtà locali. La prima soluzione da adottare, sempre secondo CNA, sarebbe quella di suddividere gli appalti in piccoli lotti. Paradossale sentire che il comune di Bolzano indice una gara d'appalto per i servizi di pulizia per un totale di un milione e mezzo, quando era sufficiente e possibile andare a splittare in più lotti, dando lavoro a più aziende della nostra città e della nostra provincia. Stessa cosa succede per quanto riguarda la provincia, che su un appalto dell'ospedale unisce anche il distretto sanitario di Don Bosco, mettendo nelle condizioni di avere un appalto di grosse dimensioni accessibile a poche aziende non strutturate come quelle che possono essere della nostra territoria. Esiste poi un altro problema legato a filo doppio con i maxi appalti, le piccole ditte perdendo queste preziose opportunità di lavoro, oltre a rischiare la chiusura, sono costrette a limitare il numero di assunzioni. Dobbiamo avere lotti che siano vicini alle nostre aziende, ma questo non vuol dire creare problemi ai cittadini per l'aumento dei costi, ma vuol dire dare lavoro a tante e tante aziende e tanti lavoratori.